Ciao, 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 io leggo perché, io leggo perché, io leggo perché, perché secondo me il libro ti permette ancora di, come dire, di stimolare un completamento intellettuale che ti permette di completare l'opera, sempre di più oggi ricevi l'opera d'arte in maniera passiva, il libro ti obbliga invece a questo tipo di... Eh, di completamento, cioè nel senso di atteggiamento attivo per comprendere appieno l'opera d'arte, cioè Daniele? Beh, io leggo perché, perché innanzitutto è utile anche ampliare il proprio vocabolario, io da piccolo vedo i vocabolari, dizionare, no? Dizionare, sì, sogliavo così, parole nuove, no? Adesso non si fa più comunque, non è che uno utilizza un dizionario, no? Quindi, Daniele dice di leggere il vocabolario, dizionario, 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 esatto, tutti quelli che trovate, sì, dizionario, esatto. Del resto un romanzo non è altro che un dizionario, bisogno. Eh, basta. Thomas, tu... Io... ma io leggo... leggo perché? Perché funziona molto con le ragazze. Ho capito che praticamente quando esci con delle ragazze, tu gli dici quello che hai letto. No, no. Le letture, soprattutto, funzionano molto con i russi e i francesi. No, ma no. Tu gli parli di questi scrittori? No, è un imbroglione, è un imbroglione. Non ci dissociamo totalmente da progetto. È un imbroglione. Certo. Fai schifo.